Le parole di Abbaschial che ha usato dei toni durissimi contro Pedro Sanchez, parlando del fatto che potrebbe esserci una nuova piazzale Loreto. Purtroppo non l'ho potuta ascoltare, quindi l'ho solo sentito ripetere da voi, i giornalisti, e quindi mi riservo di andarle a sentire direttamente. Ciò nonostante lì c'è una dinamica interna su cui noi non intendiamo interferire, abbiamo delle relazioni istituzionali ottime con il governo spagnolo, nonostante il governo spagnolo sia comunque di segno opposto rispetto al nostro. e contestualmente abbiamo in Abbaschial un interlocutore per quello che attiene ai destini del partito conservatore europeo, il cosiddetto ECR. E quindi è normale che dialoghiamo con Abbaschial e lasciamo allo stesso tutte le vicende che riguardano la dialettica interna. Però toni così duri, anche voi non li avete mai usati? Guardi, se lei così incidentalmente, perché non le sto simpatico, mi manda a quel paese, può essere certa che io la manderò a quel paese e in più le dirò anche un'altra cosa. Bisogna vedere se è stato dato uno schiaffo, non conosco il contesto e quindi non conoscendo il contesto non posso dire né che ha sbagliato Abbaschial né che abbia fatto bene. Inoltre vorrebbe ristare la tua presenza ad Atreio, di conseguenza come dire? Gli ho detto perché è comunque un partner del partito conservatore, quindi mi pare la cosa più normale del mondo. Non so chi è che possa giudicarlo come una sorta di pietra o scandalo, insomma, è una cosa facile. No, no, alla luce delle fraude che lei non ha sentito. Dopo aver visto queste fraude, aver sentito queste fraude. Una valutazione? Se si è al caso di invitarlo ugualmente. C'è a presente lei, apprezzo per la sua giovinezza, le cose che sono state dette in Italia nel dibattito politico degli ultimi anni, non soltanto dell'ultimo anno. Penso che con l'eventuale dichiarazione di Abbaschial, diciamo, possano competere. Non mi faccio a fare la cronistoria. Guardi, lo faccio a leggere, questo è l'estratto, non è il tweet del paese. Guardi, non c'è bisogno di leggere, ho dato una spiegazione che vogliamo fare. Vogliamo processare pure me, insieme a Abbaschial. Ho dato un motivo politico per il quale Abbaschial in Spagna fa quello che gli pare, così come noi qui a casa nostra facciamo quello che ci pare. Dopodiché lui sta nel Partito Conservatore e quindi ospite di Atreio. Le faccende di politica interna spagnola se le spiccia con il Presidente del Consiglio della Spagna, con cui, in quanto realtà istituzionale, il governo italiano ha un ottimo rapporto. Non ci sono limiti.